La Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, è stata ospite al Policlinico di Borgo Roma di Verona venerdì 25 novembre. Ricerca, cura, risorse limitate, attenzione all'ammalato. Come fare? Questo è il titolo dell'incontro a cui ha preso parte la Ministra assieme ad alcuni rappresentanti delle istituzioni del territorio, tra cui il Rettore Nicola Sartor. L'appuntamento, inserito nel programma del Festival della Dottrina Sociale, è stata l'occasione per parlare con Lorenzin delle sfide che il sistema sanitario si trova ad affrontare. Tra ricerca, riassetti organizzativi e necessità di finanziamenti è fondamentale mantenere la centralità del paziente. Ovviamente anche le risorse servono ed è uno dei motivi per cui quest'anno abbiamo 2 miliardi in più di finanziamento del Fondo Sanitario, ma è anche uno dei motivi per mantenere la centralità del paziente, per cui abbiamo cambiato i modelli organizzativi, abbiamo fatto da un lato le centrali uniche d'acquisto e dall'altro realizzato dei fondi ad hoc per garantire l'accesso ai pazienti dei trattamenti. I nuovi LEA, che ricordo sono i livelli estensati di assistenza, garantiranno nuove prestazioni per 800 milioni di euro e quindi anche quei pazienti di quelle regioni che non hanno avuto accesso ad alcune prestazioni perché erano extra LEI, l'avranno, e altre ancora nuove. Ovviamente c'è moltissimo da fare ancora e io sono affermamente convinta che è la riforma del titolo quinto ci aiuterà anche a eliminare e superare quelle disparità di trattamento che purtroppo ci sono nel nostro territorio nazionale. All'incontro hanno partecipato anche Luca Coletto, assessore alla sanità della Regione Veneto, Francesco Cobello, direttore dell'azienda ospedaliere universitaria integrata di Verona e Alfredo Guglielmi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia di Verona. Naturale è dunque una riflessione sulla qualità del sistema sanitario del Veneto. La Regione Veneto è una regione che si inserisce appieno tra le regioni virtuose in Italia, è una regione dove ci sono molti centri di eccellenza e come tutte anche le regioni virtuose possono ancora migliorare e questo penso che sia la sfida di tutti.